Allora ragazzi, ben ritrovati, io sono Fabrizio e quest'oggi vi invito a una Ford Fan particolare su R-Factor 2 programmata per martedì 1 febbraio alle 21.30, ragazzi, normalmente con doppia live YouTube e Twitch 30 posti disponibili con le V8 Supercarts, auto d'appello sullo stomaco per riprendere le parole di mio caro amico Carlo X che si è iscritto poi a questo evento, sul circuito Adelaide Grand Prix, circuito cittadino, abbastanza impegnativo con questa V8 spettacolare del campionato australiano, ragazzi. Allora, particolarità che abbiamo aggiunto, una qualifica in due tappe la prima dove solo la top 10 passerà per poi andare a fare la super pollo dove avrete un solo giro disponibile per cercare di fare il best time e poi si svolgerà la gara di un'ora se non sbaglio. Quindi ragazzi, cosa state aspettando? Dai, è bellissima questa combo, vi lascio il link in descrizione per accedere al nostro canale Discord dedicato, basterà lasciare il vostro nome e cognome per iscriversi. Nulla di più semplice, basterà scaricare ovviamente le mod che sono già iscritte nel canale Discord, non vi preoccupate, per poter partecipare. Noi ci vediamo quindi il 1 febbraio, martedì, per queste entusiasmate for fun. Ovviamente ce ne sono altre dietro che arrivano, subito il venerdì dopo c'è quella con la Senna GTR e tantissimi iscritti già, però il prossimo appuntamento è questo venerdì per il secondo appuntamento del campionato Battle for the Ground, ragazzi. Molto interessante, grandi novità a livello di live. Noi ci vediamo prestissimo, ragazzi, come al solito, poi lì c'è in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo. Correte ad iscrivervi alla for fun. Ciao!